Questa è la tua maglia, minimo sono 50 partite E' una nostra scherzata Il numero 3 è un motivo particolare? Sì, diciamo che purtroppo gli scorsi mesi ho perso un cugino che giocava a calcio e quindi aveva 20 anni e giocava con il numero 3 ho sempre giocato con il 16 e tutto ho detto che quest'anno nuova esperienza, nuova avventura e si prova a tenerlo sulle spalle Da San Giovanni ad Arezzo, da avversario a giocatore invece dell'Amen Scuola Basket Arezzo Come si affronta questa nuova avventura? Ma sicuramente avendo visto la realtà che mi si è presentata e tutto sicuramente con una grande passione che quella non smetterà mai di discorrere e tanta grinta e voglia soprattutto di far bene nel nuovo ambiente sia sotto il profilo giocatore soprattutto sia per dare qualsiasi tipo di mano all'interno della società con le mansioni e mi hanno dato quindi sicuramente con tanta grinta È arrivato da poco, hai già conosciuto i compagni, la squadra? Sì, ho conosciuto in primis dal presidente all'allenatore per poi gli ex avversari che tuttora sono diventati insomma compagni già in campo prima ci salutavamo, ci conoscevamo e tutto quindi c'è sempre stato un super rapporto e ora trovarli compagni di squadra è ancora un piacere Senti, questa società non perché insomma la seguiamo da tanti anni ma ha sicuramente tracciato una strada importante nella storia del basket portando a sé insomma tanti seguaci facendo innamorare anche di questo sport non solo gli aretini ma anche tutti gli altri quindi da questa nuova avventura anche a livello proprio personale come giocatore ma anche come ragazzo, come uomo insomma che cosa ti aspetti? Ma mi aspetto sicuramente in primis tanto divertimento sia da apprendere che da trasmettere in più dietro a questa cosa qui sicuramente ci toglieremo grosse soddisfazioni e sotto il profilo invece professionale ripeto, secondo me è un inizio di un percorso nella quale insomma sono contento di essere nel posto giusto Ecco, ci sarà un ruolo doppio insomma per questo ragazzo che da oggi veste la maglia dell'Ame Scuola Basket? Sì, Mirko oltre ad essere per quanto mi riguarda uno dei migliori giocatori della Cigold Toscana ecco perché sono veramente contento e soddisfatto che Mirko sia venuto ad Arezzo Mirko ha approfittato diciamo di questa situazione perché viene fuori da un percorso lavorativo Mirko è anche uno specializzato nella preparazione è un preparatore atletico noi avevamo bisogno di un preparatore atletico a cui affidare tutte le nostre squadre giovanili invece di andare a prenderli sempre una volta da una parte una volta da un'altra questa cosa è venuta proprio perfetta Mirko è stato avvicinato da delle strutture private esterne dovrebbe venire ad Arezzo a lavorare quindi per lui è stato ovviamente un vantaggio rimanere qui in città noi abbiamo chiesto se voleva continuare a giocare con noi mi è sembrato molto contento l'ho sentito molto carico anche dal punto di vista proprio della volontà di unirsi al nostro gruppo storico e agli altri ragazzi quindi io personalmente quando Marco Evangelisti mi ha detto questa cosa sono caduto dalla seggiola perché ripeto non per togliere niente ai stranieri che abbiamo preso negli anni passati però penso che veramente Mirko Brandini sia veramente uno dei migliori giocatori della Cicol e sono contentissimo che lui sia in Arezzo Come si guarda al futuro? Penso che adesso guardiamo a un buon futuro l'anno scorso abbiamo fatto un buon campionato alla fine anche se in emergenza quest'anno abbiamo dovuto ricostruire una squadra abbiamo puntato su una riconferma che è Daniele Rossi che quest'anno penso darà molto di più dell'anno scorso l'anno scorso è stato particolare come siamo detti abbiamo l'inserimento di Brandini abbiamo l'inserimento di un ragazzo lungo quindi la squadra adesso penso sia abbastanza competitiva quindi siamo abbastanza positivi per quest'anno che viene